L'amore è il più forte della morte, della violenza, delle giustizie, della illegalità. Dobbiamo tutti rivelarci all'uniferenza che giustifica tutta, che ci vuole soli e preoccupati soltanto unicamente ognuno di noi a se stesso. Bisogna ritornare a livello e tutti con responsabilità, legalità, pensando al bene di tutti. Grazie. 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 Grazie.